Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, di un mila e buona. Il cartello era arrivato contemporaneamente all'ufficiale e alla sua scorta, ma provenendo da Piazza della Signoria, con ancora addosso, se non il pensiero, il profumo della belle Idina. Era stato travolto dal fuggi-fuggi. Giannotto gli aveva gridato, scappa, vieni! E attraverso Ponte Alle Grazie si erano fermati dall'altra parte del Lungarno. Annottava, malgrado aguzzassero lo sguardo, non riuscivano a vedere cosa accadesse davanti ai cavalleggeri. Così, per non restare in trappola, ai due capi del ponte, avevano ripreso a correre e raggiunto il quartiere del Pignone per parlare con quegli operai e discutere insieme la situazione. Trattandosi del buono e della Camera del Lavoro, la cosa non riguardava più soltanto i muratori. Li avevano trovati al mutuo soccorso che giocavano a carte e preparavano i festoni per il ballo della domenica. E ora, gli chiese Ersilia, cosa pensate di fare? Qualcosa hanno di già fatto, per il resto se ne riparla domani. Quegli operai avevano telegrafato a Pescetti e mosso i capi socialisti che si trovavano in città. Poi si era saputo che del buono, Leopoldo e gli altri stavano per essere tradotti alle murate. Li accusano di rissa e cercano di fargli dire dei nomi. Quindi si era tenuto a una riunione. Dov'è il partito? Avevano parlato uno delle officine, Galileo e uno delle vetrerie. Era stato scritto un manifesto che in quel momento si stampava. Ora si vede se siamo una popolazione, avevano detto. Liberare del buono diventa una questione di principio e far togliere i sigilli alla camera del lavoro più che mai. Gli animi erano eccitati. Si diceva di voler andare in fondo, se necessario, fino allo sciopero generale. C'era una sigaraia, Mettelo la conosceva di vista. Non era nemmeno una brutta figliola, doveva stare dalle parti di Riccorboli o del Bandino. Aveva gridato, su di noi ci potete contare. Della Galileo, della Pignone e delle officine meccaniche, non si dubitava. Il vetraio aveva garantito per i suoi. E siccome tra i presenti c'era anche uno dei molini, gli era stato chiesto, e su voi altri, costui, era un uomo grande e grosso, una specie del tedesco. Si era stretto nelle spalle. Bah, speriamo, io direi di sì, ma bisognerà sentire, non posso mica essere nel cervello degli altri. Era intervenuto un fornaio di notte. Se voi ci state, a noi ci resta più facile. Lo capisco, ma è vero anche il contrario, aveva risposto quello dei molini. Quindi, questa era la situazione del buono Leopoldo e una decina d'altri, in carbonaia, forse di Giale Murate, a Minta, all'ospedale e la Camera del Lavoro, piantonata. E in quanto a loro, muratori, ormai se la dovevano vedere da soli, come il più di prima. Domattina una commissione andrà dal prefetto o dal questore, e gli concluse. Chissà se li riceverà. Parleranno per telefono con Roma, e poi, se in serata non saranno riusciti a nulla, è probabile che decidano lo sciopero generale. Noi, per il momento, restiamo allo stesso punto. Ci hanno detto, non vi arrendete mica proprio ora, dopo lo scombuglio che avete creato. E senza che ce lo dessero a dividere, avevano l'aria di guardarci risentiti. Ehi, gli vorresti dare torto? Scostò il piatto dove aveva mangiato, mise le braccia sul tavolo e appoggiò il mento sulle mani. E la tolse il piatto e il bicchiere. Ora non ti buttare la croce addosso. Andò e tornò dalla tavola all'acquaio. Ma le vostre intenzioni quali sono? Egli le spiegò ciò che avevano deciso, poi disse, tutto per via di Olindo, non prendertela con lui. Ha avuto meno tatto del tedesco, ma anche il tedesco e altri non hanno manifestato la sua stessa intenzione. E poi, oh, non è stata menta a saltare addosso per primo. Tu lo difendi. Pensa alla famiglia che ha alle spalle, anche a mia famiglia, tutti l'abbiamo. Io non ho una famiglia. Ricordatelo più spesso. E lei esclamò. Malgrado se stessa, ciò che restava in lei della sua angoscia di tradita, improvvisamente le aveva fatto groppo al cuore e se ne pentì. Scusami, volevo dire un'altra cosa. E di nuovo si odiò. Insomma, concluse. Ho sbagliato. Ma egli era troppo preso dai propri e più recenti pensieri per intuire l'origine delle sue parole. Si alzò, rimise a posto la sedia con ira. La sedia cadde e lui la lasciò, dove era caduta. Lo so, non sei tu che hai sbagliato, sono io. Siamo tutti noi. Non ci si doveva mettere in questo ginebraio. Olindo ha ragione. Il tedesco ha ragione. Ci si deve contentare di quello che Dio ci manda. Cuor contento e sacco al collo. Dillo, è festa finita. Così conoscerò di preciso anche la tua delle opinioni. Entrò in camera. Si cavò il berretto e lo toccò al pomo del letto. Si tolse le scarpe, i pantaloni e si distese. Ella lo aveva seguito portando il lume. Ora ti spiego cosa volevo dire. Olindo e gli altri che sono d'accordo con lui hanno torto, fanno male, ma si possono anche capire. Non si può pretendere che tutti abbiano idee giuste quando si vedono soffrire delle creature. Basta, e gli disse, non mi ci far pensare. Si voltò su un fianco e affondò il viso nel cuscino. Certe volte ci si pentia dei sernati. Vai, ella disse, e cercò di sorridere, di mettere dell'allegria nella propria voce. Non si nasce da sé, ci fanno nascere. Poi gli disse, togli tico testa camicia e zuppa di sudore. Al di là della finestra spalancata c'era il silenzio della notte della fiaschetteria sull'angolo. Proveniva di tanto in tanto qualche voce. Il marito della celeste e il baccalaro si salutavano dopo l'ultima partita. Suonarono e rintoccarono le due. Mi dovrei alzare le quattro, e la disse. Ma se mi addormento chi mi sveglia? È stata una giornata. Ti sveglio io, e la disse. Non ti preoccupare. Egli aveva chiuso gli occhi ed ella lo crede assopito. Gli sfilò i calzini e lo coperse col lenzuolo. Prese il lume e lo tenne alto su di lui. Rimase un attimo a guardarlo, che dormiva sul fianco. La guancia schiacciata contro lo cuscino. E se ancora vi era del risentimento dentro di lei, il timore. Aveva finito per sopraffarlo. Poco prima, egli le aveva detto che lui, Giannotto e tutti quelli che erano d'accordo per continuare nello sciopero, rimasti senza il consiglio di Delbuono e con la situazione che si era venuta a creare, non sapendo a che fare di meglio, avevano deciso di trovarsi prima di giorno in prossimità dei cantieri per affrontare coloro che venissero con l'intenzione di riprendere il lavoro. Bisogna persuaderli, con le buone si intende, egli aveva detto. Ma anche aveva detto, a tutti i costi. E a proposito di Olindo, con Olindo me la vedo io di persona. Lui sui ponti non ci sale di sicuro. Magari lo leggo a mani e piedi e lo tengo mezzagiornato in un fossato, come gli facevo da ragazzi quando si giocava a Garibaldi e i papalini. E la tornò in cucina e si mise ai suoi fiori. Doveva riunire i mazzetti, quei papaveri di più colori che erano tanto piaciuti alla bellidina. Quando suonarono le quattro, Metello era già desto. Non mi è riuscito di chiudere occhio, le disse. Non ho fatto che pensare, è sempre a vuoto. Ersiglia, uscita, egli aveva cercato il sonno, fermandosi su un proposito, a costo di cazzottarli uno per uno e mandarli a far compagnia alla menta. Ma non c'era quella spavaderia del suo animo, piuttosto della tristezza, o meglio dei sentimenti confusi, in cui la vergogna aveva lo stesso peso del risentimento, un'inquietudine che non aveva mai conosciuto, continuava a tenerlo desto. Egli aveva sì, sperimentato la delusione, la paura e, nella prima età, anche il terrore, come la notte che i carabinieri avevano arrestato Babbe Eugenio. E quando batte il terremoto, era domenica e stavano desinando, ed egli aveva venuto oscillare la lampada e la trave maestra che si muoveva sopra la sua testa. La volta, infine, che si era tuffato nella gora per salvare Olindo, e lui gli si era attaccato al collo, sarebbero andati al fondo se invece della gora fosse stato un fiume. Erano riemersi un metro più avanti, dove si toccava. Tutto questo apparteneva all'infanzia, agli anni con i calzoni corti sotto il ginocchio. Ne aveva perso il ricordo. Era un ragazzo e viveva in campagna, appena buio ogni fruscio e ogni ombra se lo venivano a pigliare. Non occorrevano circostanze eccezionali per mettergli terrore. Non di meno, era stato un modo di crescere dentro il bozzolo. Allenati contro l'insidia, lui e Olindo, come in uno stesso guscio. Quindi le prime volte che intimamente avevano sorriso, allorché il prete gli illustrava le pene dell'inferno, e mamma Isolina gli minacciava la presenza dei morti a piede del letto, erano usciti dal nido. Una notte senza luna, mentre Olindo e tutti dormivano, di proposito, egli si era avventurato solo fuori casa. Aveva preso la scorciatoia, dove era stato trovato il guardia appeso al terzo moro, ed era arrivato sin sulla sieve. Nemmeno i fuochi fatui gli avevano fatto impressione costeggiando il cimitero. Si era indugiato a stanare i granchi di sotto i massi, e al suo ritorno, con le prime luci, tutti i tinai erano in piedi che lo cercavano. Sorpreso di queste lontane immagini raffiorate alla sua mente, cosa vuol dire, si chiese, beh, ero diventato grande avanti tempo, non avevo più paura. E istintivamente, fino da allora, aveva capito che soltanto dai vivi poteva venirgli l'insidia. Gli aveva affrontati a viso aperto, e si era ritrovato per terra, ruzzoloni. Questo era accaduto nei due momenti decisivi della sua vita. Il giorno del suo arrivo a Firenze, carico di sonno, di stanchezza e di fame, come era, aveva dovuto affrontare l'ostilità di quei facchini al mercato, ma poi Berto se l'era caricato sulle spalle, gli aveva insegnato a leggere e scrivere, a dargli un mestiere che fosse un mestiere, e la sera di maggio, che si era trovato ristretto nel camerone delle murate insieme a Giannotto, a Ghigo, Monsani, a Fioravanti il Tornitore, e gli sembrava di non avere lasciato altro che la libertà, al di là di quelle mura. Allora si era alzata la voce di Ersilia, e subito egli si era detto, esco e la sposo. È vero, solo che tu conservi un minimo di volontà, trovi sempre una mano che ti tira, su se sei abbattuto, trovi l'amicizia, e puoi trovare anche l'amore, e non devi mai né riconoscenza né devozione a nessuno, aiutandoti, e se stessi che aiutano, i loro scoraggiamenti, le loro paure, i loro terrori, gli devi amicizia e amore quanto puoi, non di più, altrimenti sarebbe ipocrisia, esagerazione, Siamo tanti girotondi, senza parere ci teniamo per mano, se esci dal cerchio allora sì, sei perduto, il pane del povero è duro, non è giusto dire che dove c'è poca roba c'è poco pensiero, al contrario, stare a questo mondo è una fatica, soprattutto saperci stare, non ti puoi permettere una distrazione che subito ti casca la casa in capo, si era detto, la domanda che Ersiglia non gli aveva fatto, gliel'aveva posta già notto, appena al sicuro, dietro a punta alle grazie, del buono, aveva sudorato qualcosa, perciò ti aveva mandato a chiamare, tu, dov'eri? Poteva rispondergli, ero con la ganza in terzollina? Fossero stati soli forse, ma c'erano presenti i lippi, i friani, il piccolo renzoni, altri ancora, e tutti con gli orecchi dritti, la lingua fuori, e le bestemmie che uscivano da quei petti affannati come ave marie, aveva detto, mi ero perso a sentire le prove della banda presidiaria, e si era sentito avvampare, più l'aveva ascoltato la luce d'omertà intravista nello sguardo di Giannotto, in coteste fiamme, la bella Idina, aveva finito di incenerire. Ora, malgrado tenesse gli occhi al soffitto, come certe altre notti, per poi, tanto lontane, non era Adida che pensava, essa non aveva mai impegnato il suo cuore, così gli ultimi avvenimenti ne l'avevano esiliata, tanto poco aveva dunque contato con questa sua avventura, meno delle fidanzatine succedutesi alla sua relazione con Viola, meno delle amiche occasionali di Lungo Celso o del Pendino, meno, meno. Ne egli provava rimorso nei confronti di Ersilia, seppur fosse la prima volta che la tradiva, i suoi sentimenti non erano mai stati in gioco, Ersilia era al centro dei suoi affetti, nell'unità della famiglia, che nessuna avventura poteva incrinare. Non era su questo che ruotavano i suoi pensieri, le sue idee in proposito erano semplici e chiare, comode ma lineari, se ne sentiva tutelato, le renderò i conti, c'è tempo, si disse, La sua inquietudine riguardava unicamente quanto era accaduto nel pomeriggio e peggio il fallimento dello sciopero che li minacciava. Non era anche colpa sua? La responsabilità, diciamo, ricadeva pur sempre su Orindo e su coloro che lo avevano spalleggiato e su di lui, sì, ma nella misura in cui egli non aveva saputo vigilare le mosse e gli umori del fratello. Dopotutto non sono la sua balia. Giannotto gli aveva ricordato che se lui fosse stato presente in piazza a Cavalleggeri, alle sette come era convenuto, invece di perdersi ad ascoltare le prove della banda presidiaria, Orindo non avrebbe minacciato di mettersi alla testa dei crumiri. che ti ascolta, ti teme, con un non nulla gli avresti fatto cambiare parere e molte cose si sarebbero evitate. Il tedesco è un uomo ragionevole, non sarebbe mai arrivato a vestirsi da provocatore, è stato l'Indo che ha fatto precipitare la situazione. sicché tutto per colpa mia, eh, va bene, ho le spalle larghe, si ripeteva. Non di meno la situazione restava quella che era, del buono tolto dalla circolazione e i sigilli alla camera del lavoro, come nel 98. Ci risiamo. Gli anni passano, il fucile l'hanno sempre loro. Guai a non far muro, gli basta una crepa per buttare all'aria quel poco che si è riusciti a costruire e questa volta la minaccia l'avevano accesa o lindo, sbagliando, uscendo di ragione o non l'aveva accesa a minta, piuttosto. Non ci poteva pensare ed era l'unica cosa a cui doveva pensare. Si assopì e qualche minuto prima che entrasse Ersilia si era svegliato di soprassalto. C'era un gran silenzio e la luna batteva sul davanzale. Dall'altra stanza veniva il filo di luce del lume a petrolio e il fruscio che faceva Ersilia coi suoi fiori. D'un tratto udì pesticciare alla porta di sopra, si sorprese che a questo mondo esistessero ancora le Sosa e suo marito. Levandosi sotto l'acquaio si disse «Ma quando è stato? Mi sembra mille anni fa». Chinò la testa per voltarsi a guardare Ersilia che gli dava alle spalle intenta a riordinare sul tavolo il suo lavoro. La vedeva piccina perché doveva socchiudere gli occhi per via del sapone e le sorrise. Di lì a poco era vicino alla porta e la salutava. Ella aperse la mano dove teneva tre monete da due soldi e due centesimi. «È tutta la cassa ti puoi ti puoi servire». «Ma se è tutta la cassa?» «Stamani consegno quei fiori alla Roini e i bottegai continueranno ad aspettare. Non li calmerei di certo con meno di una lira». Egli cavò dal taschino del panciotto un mozzicone di sigaro. Sembrò fare una considerazione. Quattro soldi mi bastano per mezzo toscano. Mi era mi ero serbato questa cicca ora la posso anche fumare. Con gli altri ti c'entra una mescita. Erano fermi sulla soglia e gli ha detto un bacio sulla guancia e inaspettatamente ella si sentì arrossire. E gli disse «Come va, bambino? Vedi dove dove ho la testa? Te lo chiedo soltanto ora». Sta una meraviglia quando l'ho lasciato non se ne è nemmeno accorto. «Ciao». «Ciao» ella disse e mentre lui scendeva le scale le voltava di spalle «Mettelo!» lo richiamò «Non fare delle sciocchezze. Mi hai già fatta abbastanza» gli avrebbe voluto dire «Fuori era ancora scuro ma una notte lunare estiva appena ventilata. Presto sarebbe sorto il nuovo giorno l'ultimo dello sciopero. Egli teneva l'indice nel taschino dove aveva il denaro offerto gli dalla moglie. I suoi passi risuonavano sulla pietra. Strofinò lo zolfino a un muro e accese il mozzicone di sigaro. Era sull'angolo di San Piero. vinse la tentazione di attraversare la strada per bere una mescita al banco di nocellino aperto tutta la notte e dove c'erano degli avventori e una donna fra costoro in cappello e intoellettata che gridava «Rinocca! Questo è passito!» Girò attorno al duomo. C'erano quei fiaccherai che giocavano a morra e incontrò un ciccaiolo da cui riceve il saluto «Buona fortuna!» egli rispose «Non fossero passati gli altri prima di me!» Ora aveva imboccato via dei servi lunga e deserta a cui di lontano facevano quinta Ferdinando primo a cavallo e alle sue spalle il portico dell'annunziata nel cielo con la luna piena c'era anche il presentimento dell'alba un vero velo chiaro e impercettibile sopra lo stellato. Egli camminava nel mezzo della strada e più che fumare il dito di sigaro lo masticava non sarebbero venuti in molti all'appuntamento pensava la carica dei soldati li aveva dispersi e poi non c'era stato il tempo di avvertire ma i picchetti li avrebbero fatti ugualmente quanti fossero per questo si volevano trovare per tempo in prossimità dei cantieri per bloccarli uno per uno prima che entrassero nella sfera di Clispi e di Nardini chissà se l'ingegnere si sarebbe fatto vivo dopo via via che arriverebbero quelli che condividono l'idea di continuare nello sciopero si sarebbero cresciuta l'opera di persuasione e di intimidazione se necessario a un bambino si apre la bocca con la forza per fargli prendere la medicina e per il suo bene raggiunta a piazza dell'Annunziata si fermò alla fontanella e bevendo per acqua che fosse e ancorché a digiuno scoperse di avere una gran sete sotto il loggiato degli innocenti alla porta dell'orfanotrofio dove c'era la ruota gli parve di intravedere un'ombra che si appiattiva la luna illuminava fino all'altezza dei plinti più dentro non si distingueva egli preferì allungare il passo e voltare la cantonata d'un tratto in quel silenzio dalla piazza che si era lasciata alle spalle e dove lo scroscio della fontanella non aveva eco risuonò un tacchettio veloce e gli si girò e vide una figura di donna correre come inseguita sotto la luna un attimo subito ricomparve dietro via dei fibbiai lanciando un grido addio mimmino era una voce giovane non ruota dal pianto sembrò in quel silenzio sotto quella luce in quell'ora stranamente felice ma non era un episodio che potesse turbare il suo spirito altrimenti affaticato una sciagurata di più e gli pensò e riprese la sua strada a non aver nulla da fare si disse ce ne sarebbero a notte di cose da vedere l'appuntamento era nel giardino della fortezza da basso egli non fu nel primo nell'ultimo ad arrivare c'era di già Giannotto c'era Lippi che portava notizie di Aminta non era ferito appena qualche graffio e delle lividure l'avevano trattenuto in ospedale per precauzione e siccome tastandolo quei medici indipendentemente dagli esiti della scazzottatura gli avevano trovato qualcosa non si sapeva cosa né dove comunque lo volevano studiare convennero che sia Minta mancava forse non era un male e si consolarono pensando intanto per qualche giorno mangia e si riposa sul serio e del resto borbottò il decano si è risparmiato una pena se tornava a casa con me avrebbe scoperto che sua moglie ha preso in braccio i bambini ed è tornata dai suoi a Ponta Ema ha detto alla mia vecchia ad essere stanca di questa vita ed avere per marito un poco di buono c'era Friani l'anarchico c'era il vecchio corsiero vecchio quasi quanto Lippi sulla sessantina che a Mettello ricordava i suoi primi passi nell'arte e c'era il piccolo Lorenzoni il quale raccontò che il nonno l'aveva buttato giù dal letto a furia ad urlare se non fosse che è impedito alla gamba ma avrebbe accompagnato ho ancora le cispe negli occhi non mi ha dato il tempo di lavarmi il viso presto si fu tutti quelli che ci si attendeva coloro cioè che la sera precedente erano andati al pignone e altri di cui si conoscevano gli umori e che si erano potuti avvertire la più parte di città ma alcuni anche della campagna come Friani che aveva dormito su quelle stesse panchine in quel giardino dove un mese e mezzo avanti il primo giorno di sciopero si erano riuniti e all'arrivo di Dolbuono due o trecento più voci avevano gridato viva Bastiano stamani siamo un po' meno disse Giannotto ma questo non ci deve scoraggiare tanti che sono della nostra idea li troveremo appena arriviamo ai cantieri era ormai giorno il cielo si era fatto rosa e chi aveva dormito all'aperto si sentiva brividire dentro la fortezza una tromba suonava la sveglia sveglia militari non erano molti bastavano i due a contarsi sulle dita si chiamarono per nome o nomignolo come si conoscevano e via via che si riconoscevano non c'era nemmeno più bisogno che ciascuno denunciasse la propria qualifica così vennero a formare sei gruppi secondo i cantieri i padroni le imprese il gruppo dei cantieri madii del ponte alle mosse guidato da Giannotto era il più numeroso comprendeva Gemignani Locchi Zulimo Pagliacci e Rovini accanto ad essi Volpi e Pergento che lavoravano alle dipendenze di Taiuti nel cantiere di via del Gersomino quindi quelli dell'impresa Lampredi cantiere 2 di via circondaria Lucii Pierani e Ghignone e Cioni Ascanio Piladino Grazzini dell'impresa Fratelli Massettani che aveva inappato un lotto di villini alle cure poi Filiberti ossia Corsiero Polverosi e Lucatelli del cantiere Fiaschi anche delle cure dove costruivano i capannoni della nuova fonderia infine coloro che avevano per padrone l'ingegner Badolati a cantiere di via 20 settembre e tra i cui compagni di lavoro c'erano Buttori il tedesco Olindo Tinai e Aminta Donnini per il momento tutti fecero la medesima riflessione Mettello Salani Lippi il decano l'anarchico Friani e il piccolo Renzoni Renzoni Ripote Erano 21 Non volendo si erano contati 3 primi muratori 10 muratori e gessisti 2 mezzi munatori e 6 manovali Mi sembra ci sia rappresentata tutta la scala disse Giannotto il decano disse la scala la pergola e la fame speriamo bene ma anche se rappresentavano soltanto 6 cantieri essi comprendevano le imprese più importanti e le maggiori fabbriche in via di costruzione lasciate a mezzo da 46 giorni sotto il sole se fossero riusciti a far continuare lo sciopero in contesti 6 cantieri i padroni avrebbero finito col trattare o almeno speriamo concluse Giannotto si avvicinò a Metello e gli strinse le mani qualche minuto dopo i 6 gruppi prendevano 6 opposte direzioni loro 4 del cantiere di Badolati si incamminarono costeggiando il munione speriamo bene ripete il decano la vedo molto complicata così dicendo si accorse che lungo l'argine il piccolo Renzoni aveva colto una margherita e se l'era messa all'orecchio lo considerò scosse la testa e disse poveri noi quindi rivolto a Metello non allungare troppo il passo Cipressino io non ho mica più vent'anni nemmeno io Metello gli rispose io sì che ce li ho esclamò il piccolo Renzoni ma non ve li posso prestare era sorridente allegro il solo ad esserlo fra tanti visi scontenti e decisi si continuasse lo sciopero si riattaccasse a lavorare la sua amica bambinaia l'aspettava da mezzogiorno all'una sotto la torre della zecca e lui non avrebbe mancato Friani gli disse tieni nel conto vent'anni stiano una volta sola avevano raggiunto il cavalcavia sul munione e dall'altro capo della città si era levato il sole Lippi disse aspettatevi di trovare i soldati anche se fosse disse Metello noi abbiamo dobbiamo agire lontano il più possibile dai cantiere la maggior parte dei lavoratori sarebbe giunta al cantiere come al solito risalendo la massicciata che in certo modo lo recintava era la via più breve altrimenti si doveva fare il giro dei terreni coltivati e rientrare attraverso il passaggio livello non c'era scopo a cavallo della massicciata si erano battute apposta due piste per i carri e queste si riallacciavano al piano stradale di via 20 Settembre del Ponte Rosso la stava si mettesse alla metà strada tra i due sbocchi perché chi era diretto al lavoro gli venisse incontro così decisero di fare intanto avrebbero camminato lungo la massicciata per dare un'occhiata al cantiere e vedere come si presentasse la situazione Renzoni piccolo disse ma se non ci ascoltano come andrà a finire come iersera nessuno gli rispose ed egli non vuole lasciargli credere da avere paura e perché a mezzogiorno appuntamento con una persona Friani lo prese a braccetto che sta molto a cuore gli chiese a parte tutto capisci ci trovo un filone di pane con la frittata e da fumare e poi lei starebbe in pensiero si buttò indietro il berretto si grattò i capelli all'attaccatura e per primo risalì la massicciata e si accorse che il cantiere era di nuovo presidiato e come se ci sono soldati esclamò c'è anche la forza pubblica i soldati una decina stavano attorno alle impalcate fuori la direzione e all'ingresso del cantiere qui c'erano i tre uomini in borghese vestiti di scuro quelli al centro portava il tubino e teneva sotto braccio la mazza da passeggio era almeno che ci si potesse aspettare ripete il decano ora erano tutti e quattro l'uno accanto all'altro in alto sulla massicciata dominavano il campo come dicimo un osservatorio o una trincea c'è qualcosa di peggio di semetello non li vedete? quasi sotto di loro c'era Crispi che spengeva un falò attorno al quale lui e i soldati dovevano aver pernotato in più sulla soglia della direzione c'era l'ingegnere Nardini ma non era su questo che metello aveva richiamato la loro attenzione più avanti ancora vicino alla baracca che fungeva da dormitorio si vedeva dell'animazione la porta e la finestra erano sparancate però disse il decano anche questo ci si poteva immaginare io no disse metello la sua voce era cupa carica da amarezza e di rancore non avrei mai aspettato che facesse giorno se me lo fosse immaginato essi non arrivarono a distinguere i particolari ma le figure sì e i gesti di quegli uomini in manica di camicia e panciotto che si muovevano tra la finestra e la porta del dormitorio e ora si chinavano sui bidoni dell'acqua per alvarsi il viso ora lineavano degli arnesi e si appoggiavano alla parete un paio infine si voltarono come richiamati da Nardini il quale aveva lasciato l'ingegnere e gli faceva cenno con la mano uno di costoro era Olindo e tra quelli che preparavano gli arnesi c'era il tedesco anche a non essere certi bastava la sua corporatura farla individuare dopo qualche minuto non gli fu difficile riconoscerli uno per uno e capire che avevano dormito in cantiere e si erano alzati da poco il che significa che erano già d'accordo con Badolati se no Crispi non gli apriva la baracca di sicuro disse Friani allora chiese il piccolo Renzoni ma che ti ha svegliato a fare tuo nonno stamattina scattò il decano e lo spinse perché si mettesse a camminare uno dietro l'altro discesero la massicciata gli giarono attorno ai terreni coltivati e raggiunsero il ponte rosso a una cinquantina di metri dal picchetto degli agenti e dei soldati nello stesso momento conardini incollava un avviso che si sarebbe potuto leggere uguale all'ingresso degli altri cantieri cambiavano soltanto i nomi e che diceva prima di riprendere il lavoro i dipendenti di questa impresa sono tenuti a sottoscrivere la seguente dichiarazione uno riconosco eque legittime come tali accetto le tariffe fissate dall'associazione costruttori edili due mi impegno per l'avvenire a non partecipare a qualsivoglia manifestazione promossa dalla camera del lavoro la firma si mette in direzione chi non ha intenzione di firmare può tornare a casa la mano d'opera sotto elencata se presente è diffidata ad abbandonare il cantiere salani metello donnini aminta lippi ferdinando detti licenziamenti sono motivati per mancanza di rispetto ingiurie rivolte al titolare dell'impresa salani donnini e per vie di fatto nei confronti di un capomastro lippi la direzione badolati ingegner filippo firenze 30 giugno 1902 un'ora dopo la mano d'opera di badolati era al completo davanti al cantiere e Crispi avrebbe potuto battere la sirena mancavano soltanto Bixio Farloni tornato ai campi e al loro vero mestiere